Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, si è verificato un intenso scontro tra Armando Incarnato e Mario Cusitore. La tensione è salita alle stelle e persino Maria De Filippi è intervenuta per calmare gli animi e poi confrontarsi con Armando, che sembrava essere rimasto turbato dal suo intervento. Alla fine della puntata, la situazione è culminata con il pianto disperato di Armando, il quale si è lasciato andare a un duro sfogo che ha colpito tutti, compreso il suo amico Lino Giuliano che ha preso posizione a suo favore sui social media. La lite con Mario Cusitore si è conclusa con il pianto di Armando Incarnato, il quale ha dichiarato tra le lacrime. Ormai ho perso la fiducia negli esseri umani. Non ci riesco, non so perché. A volte mi sembra che cosa sto facendo qui. Non mi interessa nemmeno ciò che gli altri dicono. Le ferite non si vedono, ma dentro sono aperte, sanguinano e fanno male. Non ce la faccio più. Sono più i giorni in cui non mangio che quelli in cui mangio. Dopo questo momento toccante, Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island e amico di Armando, ha voluto mandare un messaggio di supporto al cavaliere attraverso Instagram. Non mollare mai, ha scritto Giuliano, sottolineando la similitudine caratteriale tra loro e esortando Armando a resistere nonostante le avversità. Giulietto ha elogiato la bontà d'animo di Armando e lo ha incoraggiato a continuare ad essere obiettivo e similitudine.